Musica Daniella Magnetto Aglietta, piemontese dell'Esperia Fiasco, 12 mesi dopo sei ancora tu la più forte qui sull'ultravardo di Palazzago, raccontaci com'è andata. Sì, ero nel gruppo, ce ne erano due in fuga davanti, ho provato a uscire e andarla a prendere, mi sono ritrovata la sera, ho continuato e poi mi hanno ripresa in due e poi siamo arrivate. La dedica a chi va? A miei genitori, a mia famiglia, a mio allenatore e a una mia amica che l'anno scorso non ce l'ha fatta e adesso non c'è più. Grazie 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 Grazie